E qui arriva la strapotenza del personaggio, reagisce da guappo alla legittima richiesta chi sia, risponde male e poi pretende anche addirittura di dare comando agli orchestrali come sto facendo io adesso, senza essere sappatore. Prego maestro, non sono sappatore assolutamente. No signora avvocato, sentite a me non vi mettete scuola, io provo a fare signora già zappato e so zappando ancora notte chiudano, sono due anni e due, che hanno scrivono riga, che hanno scrivono riga da casa mia, se io signoria si mette scuola e nuia, pur io mi mette scuola, io signoria. No, conti, 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 vai una volta là. Ma di là sta gente, che è solo una nuvarenda, e non la bocca c'è, musica, 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 che è bella l'allegria. Poi è triste, è tragico fatto. Di modo cerco scusa a tutti quanti, si appalla i chiagnarini da casa mia. Si appalla i chiagnarini da casa mia. E' qui, è qui, è qui, è qui, è qui, è qui, è qui che ha scalassino. Perché lo zappaduno... Dopo viene, dopo, che non ti scorda la mamma viene dopo. Ho capito, si, si. No, no, continuiamo, continuiamo. Allora, lo sputtanamento, ed il rimpaccio, quel zappaduno, notte e giorno, che senso ha? Ma perché poi ce l'ha arrivato, che si cerca, che tu vuoi arrivare? Quello è avvocato, è ricco, fa i vestiti, ma che serve... Ma non deve zappare, una pinta, ma è una pinta, caro Francesco, è una pinta, è una pinta. È un zappaduno, sta a casa, tranquillo, il figlio gli ha regalato il cappotto di cammello, il vestito bello, le scarpine. Ma sei sordo, il figlio. Il figlio ci fa... È bello il padrone su Salvatore, lo sanno sentite la casa che è bella e buona. È bella e buona. No, ma non solo, caro Francesco, si presenta con il mantellone nero. Sto donati a qui ce l'ha mai venduto. Un sti pavone, un guacchiato di pangolo. Pure. Pure, gli sporca il tappeto. Allora vuoi provocare, allora stai provocando. Poi, sono zappane tutti i giorni, ma lui non vede la zappa da mesi. Siamo bello, tu sei... Ci vanno gli extracomunitari a zappare, con paghe di fame. E quindi... No, ci vanno ancora adesso. Tava ragione, sono dei risvolti che non conoscevamo. Non conoscevamo, ha tenuto conto di questa questione. La parte tragica. La parte... Ora arriva la mamma, ora arriva la mamma. Ma arriva la mamma. Sono io, Catarra. Sono io, Catarra. C'è arrivato Catarra. C'è arrivato Catarra, c'è arrivato Catarra, c'è arrivato Catarra. E non ho po' cacciata. Sono faticatore, sono faticatore. Sono faticatore. Sono faticatore. E mangi pane e pane. E mangi pane e pane. Si sa paterra. Si sa paterra. Che sta ma valore. Adoncchiette. Adoncchiette. E facciamo steppone. Finale. No, finale, finale. Finale. E qui casca l'asido. Ah, oi che cascava l'asido. Casca l'asido, casca. Oi che cascava l'asido. L'asido, rosa, pate, casca prima, cascava ora. Ma è mai possibile che un zappatore, un contadino, con la moglie ammalata parte, se ne va a casa il figlio? Assurdo. Ma dove poi arriva la provocazione massima? Ridicola. Dove espioniamo il ridicolo? Allora, adoncchiette basse in mani. Il figlio reagisce in maniera inconsulta, violenta, perché il figlio è un reprobo. Che? Non capisco. Un reprobo. Attenzione, un figlio è un reprobo. È un reprobo. Ferma. C'è un reprobo? No, quello è il reprobo. Che se è il reprobo? Alla parte di dietro, a favore del bocci. Madonna, come fate a non conoscere? Il reprobo è un gallinaceo. È un gallinaceo. È quello che tenete tutti in squadra. È quello che tenete tutti in squadra. È quello che tenete tutti in squadra. Si mangia, si mangia. Si mangia imbottito di capitoni. Pure. Il reprobo ha morto un reprobo e con capitone. Lo vedi? Lo vedi? Aspettate la prossima, oggi. Aspettate la, aspettate la. Siamo tornati di capitone. A noi maestri, a Bolli e Albano che hanno scritto Zappatello. Grazie, grazie. Teniamo milmente scusa. Alla memoria, a Ferdinando e a Albano libero. Aspettate, fermi. Fermi, sto prendendo per i capelli. Le ultime tre persone rimaste avanti al video. Dopo la pubblicità, abbiamo ancora Nello, Daniele, Francesco, Baccini. E ci metto anche un pizzico di onorato per una grande session finale. Grazie. Per cui chiamate gli amici. Fate tornare gli amici. Grazie. Grazie. Antonellina, vai con la pubblicità. Salagadula, mengicabula, bibidibobbibu. Grazie.